Ciao fragoline, come leggete dal titolo? Gratta e Vinci. Allora, dato che vi è piaciuto molto il video dove ho grattato i Gratti e Vinci, questa volta ne volevo fare altri. Fatemi sapere se preferite due volte al mese, che prendo i Gratti e Vinci, o una volta al mese, che così meno mi organizzo. Questa volta ho preso questo qui, praticamente il miliardario di 2 euro, che lo volevo provare, sinceramente mi colpiva e l'ho voluto prendere. E poi le monette retine fortunante, ho preso anche questi due di 1 euro l'uno. Praticamente ho speso 4 euro. Sinceramente ne volevo prendere quelli che costavano di più, verso i 10-5 euro, tanto per provarli. Però vabbè, ho visto questi e ho detto, vabbè, per il momento proviamoli, perché questo qui credo che è anche nuovo. E allora, l'ho voluto prendere. Iniziamo, però prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like, così faccio altri video di questo genere. E se volete vi lascio anche il mio Instagram, sia qui che sotto in tutti i video. E detto questo, iniziamo. Allora, vediamo se questa volta siamo fortunati. Di solito, chi spende 1 euro, riusciamo a trovare 2 euro. Chi spende dai 5-10 euro, dipende. Riusciamo anche a trovare 5 euro. Però, ovviamente, non sempre sei fortunata. O fortunati. Iniziamo e vediamo se questa volta abbiamo vinto. Allora, prima iniziamo da questo e poi facciamo il miliardario e dopo l'altro. Allora, proviamo. Il premio è 50 euro. Vediamo se si vede, se no zoom ancora. Ok, c'è un po' di riflesso. Ok, proviamo. 10 5 5 5 Ma tanto non riusciamo a trovarlo. 20 5 Non ci credo. Grattiamo bene. Perché Perché Allora, o vedo male io O O O credo che ho vinto. Allora, se non sbaglio dovrebbe essere che tu devi trovare Il numero uguale, giusto? Qua però non c'è scritto. Qua non c'è scritto però, ma dovrebbe essere che dovresti trovare tre numeri uguali, se non mi sbaglio. Scrivetemelo sotto nei commenti. A parte che ora che vedete questo video, credo che Sarò già andata a vedere se davvero ho vinto 50 euro. Perché giuro che non riesco a crederci. Sto Provo Provo a informarmi E poi vi farò sapere se Veramente ho vinto 5 euro. Perché di solito dovresti trovare i numeri uguali. Andiamo avanti Perché sinceramente io non ci credo, giuro. Allora, qua non c'è scritto Ah no, c'è scritto qua Gratta le monete, se la somma dei numeri è superiori a 100 Vinci il premio. Cioè, praticamente non è i numeri uguali. Io ho fatto 65 In poche parole. Per cui devi avere 100 Praticamente Devo avere la somma di 100 Bene, iniziamo bene allora. Vabbè, andiamo avanti che è meglio perché di sicuro Allora, è la prima volta che prendo questo Gratta e Vinci Per cui avrò sbagliato di sicuro E ci sono rimasta un po' di merda Per farvi capire Comunque qua Il premio è di 500 E troviamo ancora 5 Un 20 Un 10 Un altro 20 Un altro 5 E un altro 20 E neanche questo Cioè, se funziona così Non abbiamo vinto niente Neanche qua Bene Cioè, giuro che ci sono rimasta però di merda Sinceramente Vabbè, andiamo avanti che è meglio Allora Iniziamo dai premi Vediamo Questo è 10 Orizzontale è 100 E diagonale è 5 Tanto alla fine Sono sicura che non vinco Iniziamo col bonus Che è praticamente Una stella Spero che si vede Poi Troviamo una moneta Una moneta E lo sapevo che Non trovavo una moneta Moneta, moneta e stella Qui invece Troviamo una stella Una stella Vediamo se abbiamo culo Ma non abbiamo culo Per cui il lingotto E ovviamente Il ferro Per cui Anche questa volta Andrà Altro lingotto E per finire Il ferro Siamo Cioè, siamo Sono sfigata Ovviamente Perché Qua Se c'era La moneta Potevo vincere 10 euro Se invece C'era la stella Qua a posto di ferro Vincevo 100 euro In tutto questo Non ho vinto niente Comunque Direi che Ce la siamo Giocati Un po' male Questi Sono I gratta E vinci Sinceramente Veramente Ci sono Rimasta Veramente Male Comunque Questi Sono I grattevinci Perdenti Questi qua Controllate Anche voi Ma A parte che Non ho capito Perché Forse Forse la luce Comunque Non abbiamo Vinto niente Ma che Sfiga Però posso dire Che ci sono Rimasta Di merda A parte La figura Di merda Che ho fatto Perché Sinceramente Non l'avevo Letto Prima Sotto Ma di solito Tipo come Portafortuna Anche se Non è un Portafortuna Dovrebbero Essere I numeri Uguali E invece No Per cui Ho letto Male Ci sono Un po' Rimasta Male Perché Cioè A parte La figura Di merda Comunque Pensavo Di avere Le ventocinquanta E ho detto No Non ci credo È impossibile Vabbè Direi Che è andata Così Li proveremo La prossima volta Perché Sono Tutti Perdenti Ho detto Vabbè Li porto a casa Forse Mi Forse Avrò La botta Di culo Che Ovviamente Registrando Forse Qualcosina Riesco A portare Anche solo Due euro Invece No È andata Nata male Anche questa volta Comunque Se vi è piaciuto Questo video Lasciatevi un like Così almeno Ne farò altri Questa volta Volevo però Prendere quello Da 5 euro E quello Da 10 euro Fatemi sapere E in più Fatemi sapere Se volete Due video Al mese Di questa tipologia Così Vi faccio Prendo un bel po' Di grattivinci E poi Vi farò vedere Se davvero Ho vinto Perché Ho visto Che vi piace Molto Questa tipologia Di video E secondo me È anche divertente Per vedere Se sono Sfigata Ma A prescindere Sono sempre Sfigata In tutto Comunque Niente È andata così Come in tutti I grattivinci E vabbè Detto questo Vi ricordo Di seguirmi Su Instagram Lasciarmi Un commentino Qua sotto E ovviamente Non vi perdete I prossimi Video Dei grattivinci Per cui Iscrivetevi Al mio canale E attivate La campanellina Detto questo Ci vediamo Al prossimo video Ciao